La giustizia turca ha ordinato il rilascio di due scrittrici e un giornalista al termine della prima udienza di un processo che li vede accusati di propaganda terroristica. Asli Erdogan, una scrittrice tradotta in almeno dieci lingue, italiano compreso, è tra le persone di cui è stato ordinato il rilascio, anche se si tratta di libertà vigilata in attesa della sentenza. Il suo rilascio è stato salutato da una piccola folla all'esterno del tribunale, ma è amaro il commento di un deputato d'opposizione. Sono stati liberati da un carcere per entrare in un altro carcere. La Turchia ora è come una prigione. La Turchia oggi è diventata una prigione per gli intellettuali, gli scrittori, anche se il loro rilascio ora dà speranza. Spero che nel 2017 vengano liberati anche altri giornalisti, amici e Ahmed Cic, che è stato arrestato oggi. Rilasciata anche la linguista Ernegmi e Alpay, entrambe scrivevano anche per il giornale Osgur Gundem, chiuso perché accusato di vicinanza al terrorismo kurdo nell'agosto scorso, quando fu effettuata la retata che portò in carcere più di 20 giornalisti e collaboratori. Una decina furono rilasciati poco dopo, altri, tra cui i volti più noti, erano rimasti in carcere fino a poche ore fa. E mentre tre uscivano, uno entrava. Ahmed Cic in mattinata twittava, mi stanno arrestando. Giornalista noto internazionalmente era già stato arrestato a più riprese negli scorsi anni. Attualmente sono un'ottantina i giornalisti in carcere in Turchia. Grazie. 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 Grazie.